E allora questa sera vedremo solo l'Italia e precisamente Tagliacozzo con noi Venturini, poi vedremo la Spagna e vedremo il Brasile. Domani sera avremo altri due paesi stranieri che saranno appunto la Georgia e il Sudafrica ed altri gruppi italiani. Buonasera a tutti i tagliacozzani e gli ospiti e soprattutto buonasera ai gruppi intervenuti questa sera alla 37esima edizione della Rassegna Internazionale del Folklore, nell'ambito anche del Festival Internazionale del Mezzestate. Tanti gruppi, tante nazionalità sono venute a Tagliacozzo e certamente questo lo dobbiamo all'opera di Maria Lidia e all'opera del coro Venturini della maestra Elisa Blasetti, a cui chiedo veramente un caloroso applauso. In questo momento di festa io volevo però ricordare alcune persone che ora non ci sono più e che hanno collaborato e hanno fatto grande questa manifestazione. Per cui voglio soltanto nominare Rolando Bonifaci Aurelio Polarini Gianluigi Liberati Glauco Arduini Nicola Caputo Andrea e Giulio Blasetti Vincenzo Di Micco Luigi De Santis Vittorio Panella Elvio Chicarella Liberata Cerno E sicuramente la grande Elisa Blasetti A queste persone Agli attuali componenti della corale Luigi Venturini di Elisa Blasetti Ai piccoli Che seguitano questa tradizione A Maria Lidia E a tutti gli organizzatori i complimenti veramente più affettuosi dell'amministrazione comunale Ma dico di tutta la città e comune di Italia Conso Grazie di questa bellissima manifestazione Grazie 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 a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.